Ben trovati ancora su Metapolitics. Oggi cerchiamo di rispondere a questa domanda. In Italia siamo troppi o siamo pochi? Riguardo ovviamente gli abitanti, quindi una domanda di demografia, ma non soltanto strettamente di demografia, anche di demografia politica. L'Italia ad oggi ha qualcosa di più di 60 milioni di abitanti. L'Italia non cresce a livello di cittadini italiani, cresce soltanto grazie all'arrivo dei migranti che, avendo più figli, contribuiscono all'aumento della popolazione in Italia. Ma la domanda che ci dobbiamo porre è, è meglio una nazione con molti abitanti oppure no? Qui bisogna fare una piccola, diciamo, considerazione. Innanzitutto è chiaro che il successo di una nazione, il funzionamento di una nazione non dipende solo ed esclusivamente dal numero. Certo il numero è importante, è importante che ci sia il ricambio generazionale, tuttavia non è una cosa essenziale a mio modo di vedere. Io punterei molto di più alla qualità dei cittadini, alla qualità delle persone piuttosto che alla quantità, soprattutto perché oggi non siamo agli inizi del novecento, negli anni dieci o venti del novecento, quando il numero era essenziale. Il numero era tutto per una serie di ragioni, per motivi lavorativi, per motivi di famiglie molto grandi e per motivi di guerra. Servivano eserciti molto corposi e quindi praticamente si richiedeva un numero elevato di popolazione. Oggi tutto questo non è ovviamente più così e quindi io penso che vada ripensata la demografia, nel senso vada ripensato il numero effettivo di abitanti. L'Italia poi ha anche un altro problema che non coinvolge solo l'Italia ma purtroppo coinvolge anche altre nazioni e cioè la limitatezza antropologica delle classi dirigenti. Purtroppo l'Italia storicamente parlando non è mai riuscita, salvo rarissime eccezioni, ad esprimere classi dirigenti politiche in grado di portare il paese allo sviluppo, di far fare un salto di qualità al paese, non soltanto economico ma io direi anche spirituale, anche intellettuale. Questo purtroppo è un limite che l'Italia ha e quindi non riuscendo a creare una classe dirigente che ha a cuore il benessere e lo sviluppo dei cittadini, dei propri cittadini, noi dobbiamo considerare che probabilmente un numero inferiore di abitanti potrebbe risultare positivo per il funzionamento della società. Chiaramente va da sé che ci sono società che hanno molti più abitanti dell'Italia eppure funzionano benissimo, quindi qui dobbiamo stare molto attenti. Io credo che la verità in questo senso stia nel mezzo, cioè è vero che il numero non è importante però è altrettanto vero che ci sono società con numeri molto più elevati rispetto alla nostra nazione che funzionano benissimo. Altrettanto vero è però che anche la storia ci insegna, già dall'antica Grecia si pensava che era più facile governare delle società in cui ci fossero pochi abitanti rispetto a città in cui ce n'erano tantissime. Per esempio nella stessa Grecia antica noi sappiamo che storicamente vivevano ad Atene circa 30.000-40.000 cittadini, cioè coloro che erano, avevano lo status dei cittadini, e poi nella periferia di Atene vivevano probabilmente 100-150.000 cosiddetti meticci, cioè coloro che non erano né schiavi né cittadini. Questo per ricordare anche come ad Atene era organizzata la città. Ricordiamo poi anche che in alcuni regimi, se non ricordo male anche nel regime fascista, così come anche in Unione Sovietica, c'erano delle limitazioni agli abitanti delle città, cioè alcune città avevano come dire un numero chiuso, non si poteva andare oltre un certo numero. Questo perché? Per evitare che le città diventassero praticamente delle megalopoli invivibili, quelle che sono purtroppo oggi alcune megalopoli nel mondo, che sono diventate dei luoghi praticamente ingovernabili. Perché? Perché quando la popolazione si espande così tanto, naturalmente ci sono dei problemi. In Italia aggiungiamo anche un altro aspetto, un aspetto ecologico, cioè l'Italia è un paese piccolo in rispetto alla popolazione che ha, e purtroppo in alcune zone d'Italia, le colate di cemento si estendono senza soluzione di continuità. Questo è molto importante da ricordare. Non c'è più spazio, cioè non c'è spazio per la natura, per lasciare un po' d'aria anche agli esseri umani, agli animali, alle piante. Quindi questo è un problema da considerare, cioè l'eccessiva popolazione. Naturalmente, lo ripeto, questo non significa che bisogna smettere di crescere. Ci deve essere un ricambio generazionale, quello è ovvio, però bisogna considerare che il numero non è tutto. Deve esserci l'educazione, cioè la qualità delle persone. Fino agli anni 70 l'Italia cresceva, anche dopo. Basti pensare che negli anni 60, durante il boom economico, si registrava praticamente una crescita sostenuta della popolazione italiana. Addirittura si pensa anche dell'1% l'anno, cioè c'erano, addirittura si era arrivati a un milione di nascite all'anno. Oggi che siamo a meno della metà, secondo le statistiche. Però che cosa possiamo notare? Possiamo notare che man mano che aumentava il benessere, diminuivano le nascite. Questo sembra qualcosa di paradossale, perché uno può pensare che i cittadini, stando meglio, possono fare più figli. Invece non è così, esattamente il contrario accade a volte, cioè più aumenta il benessere di una società e più gli individui hanno meno voglia di fare figli. D'altronde l'Africa è un esempio chiarissimo, in Africa si sta peggio economicamente parlando, però si fanno molti più figli delle società occidentali dove il benessere è diffuso. E questo sta in un certo senso accadendo oggi anche in Italia. si fanno meno figli, la popolazione locale italiana cade, decresce e cresce invece quella degli immigrati che portano appunto ad aumentare il numero. Io però, ripeto, a mio modesto parere, credo che se l'Italia avesse meno abitanti di quanti ce ne sono oggi, probabilmente si vivrebbe meglio, non per il numero in sé, ma perché l'Italia ha dei problemi connaturati al proprio funzionamento e quindi non permette una nazione troppo numerosa, non permette la gestione di una nazione e di una popolazione troppo numerosa. Ricordiamo anche un'altra cosa, che chi sostiene che siamo troppi, anche per esempio gli immigrazionisti, i progressisti sostengono che siamo troppi e quindi bisogna ridurre le nascite, però poi sono favorevoli all'accoglienza dei migranti. A questo punto non abbiamo risolto nessun problema, perché se noi diciamo che siamo troppi e poi accogliamo milioni di persone, praticamente la matematica non è un'opinione, noi non avremmo risolto nessun problema. Bisognerebbe improntare il problema da un aspetto razionale, ragionato e cercare di limitare la popolazione, seguendo però delle politiche attente e intelligenti. Io vi ringrazio per aver seguito il video e vi do appuntamento alla prossima. Grazie a tutti.